In vista del match, casalingo di domenica pomeriggio contro la casertana e i lupi guidati da mister Biancolino sono tornati al partenio Lombardi per la seduta di allenamento odierna, questa volta a porte chiuse. Per il pitone qualche dubbio ancora da sciogliere legato all'abbondanza, fortunatamente di cui gode in alcuni reparti del campo. In difesa rientrerà Cancellotti dopo aver scontato un turno di squalifica e a meno di sorprese andrà ad occupare la fascia difensiva destra. Se i due centrali resteranno Rigione e Derrici, come sembra, Cionec non troverà nuovamente la titolarità nonostante l'ottima prestazione di Crotone. A centro campo si potrebbe rivedere Tribuzzi dopo più di un mese di stop per infortunio. Il centrocampista romano, dopo aver giocato qualche minuto contro la sua ex squadra, rientrerà a pieno titolo. Resta da capire solo la posizione che occuperà nel 4-3-1-2 di mister Biancolino. A rientro dall'infortunio anche Marco Toscano, che potrebbe rigiocare qualche minuto proprio domenica contro la Casertana, con pagine dove ha militato fino allo scorso anno. Più lontano il ritorno invece di Michele Rocca. In attacco l'abbondanza regna sovrana. Se Patirno al momento insostituibile, Gori e Russo si giocheranno il secondo posto in avanti. Poche possibilità di vedere Redan dal primo minuto, almeno per il momento. I sette punti in tre partite dopo il cambio in panchina hanno riportato l'entusiasmo alla piazza Irpina. La vendita dei bietti per la gara in programma domenica alle 19.30 procede a gonfie vele e l'auspice è che si possa rivedere un partenio Lombardi sold out.